la mia attività è a milano via carlo pisacana 53 dal 1978 faccio questo lavoro appunto da tanto tempo ho iniziato facendo il restauratore di immobili antichi invece nell'86 ho aperto la mia attività che si chiama giglio antichità ci occupiamo di acquistare dai privati arredi completi mobili antichi sculture arte moderna e contemporanea arte orientale e tante altre cose di recente abbiamo acquistato due opere molto importanti del pittore filippo jacob hacker questi due dipinti sono stati portati alla mostra alla biennale di firenze e hanno avuto molto successo e la cosa particolare che i proprietari della casa dove abitava hacker sono venuti in mostra e gentilmente hanno fatto ci hanno fatto visitare la loro casa e questi dipinti appunto uno è la veduta del monte di pisano è una la veduta di livorno e sono stati dipinti alla fine dell'ottocento quando hacker abitava a firenze